Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata di 7 Days to Die, The Survival, Org, Crafting Game. Come al saluto io sono Bruno Cifidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, nella scorsa puntata, Luna Rossa. Se non l'avete vista, trovate la playlist in descrizione o comunque sul canale di 7 Days to Die, di qualsiasi altro gioco che porto sul canale anche vlog, eccetera, eccetera. Seguite le playlist, è importantissimo. Stavo dicendo, abbiamo affrontato la Luna Rossa e è andata abbastanza così e così. Cos'altro ci riserverà questa nuova puntata? Nuove cose, nuovi casini, nuove robe? Lo scopriremo subito. Detto questo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, una condivisione, di supportare il canale che non prende neanche un fottuto euro, quindi supportatelo. Ovviamente, pagina Instagram tutta nuova, andate a seguirla. Pagina Facebook, andate a seguire anche quella. Iscrivetevi al canale, attivate la famosa campanellina. Abbiamo anche il gruppo Telegram assieme, quindi possiamo parlare tranquillamente. Trovate tutto in descrizione o come lo chiama qualcuno, infobox. Non so perché, però descrizione è uguale. Detto questo, direi che ci vediamo subitissimo in game. Ok Amon, spiegaci subito cosa ci fa un corno dietro di te e soprattutto perché sei in bici e non in moto e perché c'è uno zaino sopra di te. Cioè praticamente là. Ed è il corvo, ok. Mi vuole ancora ammazzare, molto bene. Iniziamo molto bene la puntata, devo dire. La cosa non mi piace. Sto perdendo già sangue, quindi iniziamo benissimo, direi, la puntata. Meglio di così non si poteva iniziare la puntata. Ecco, se magari finisci di sanguinare mi fai un piacere. Perfetto, eccolo qua, ok. Prendiamo. Take. Torvo non so dove sia. La moto è qui. La moto è qui ma il mio zaino chissà dov'è. Chissà dov'è il mio zaino. No, che mi rompi la moto. Vai via, vai via, vai via. Attenzione, allora. Problema subito. Sono morto, amici. E mi sa che morirò ancora se non trovo qualcosa e se non recupero il mio zaino che è dentro quell'edificio lì. Ora, non so quanto possa fare male un martello. Spero che faccia... Cioè, abbastanza male, però in realtà è... No, questo qua è morto, perfetto. Però sto perdendo... Dovremmo usare il tè. Ho fatto il tè con... Con i biscotti, no? Ho fatto il fottuto tè. Sto perdendo troppo... Troppo sangue. Il che non va bene. Che cavolo. Cioè, guardate che casino per recuperare anche le robe. Oh, questo è morto. 550 di XP. Allora, lo zaino dovrebbe essere lì da qualche parte. Quindi, andiamo a recuperarlo. Ovviamente, amici, sono morto. Sono morto cercando il Baker. Il Baker, cioè l'attrezzo che ci serve per fare la chemistry station. Cioè, giusto per capire. Eccola qua. Questo Baker qua. Ce ne servono due. Stavo cercando qua, però... È stata una brutta, brutta, brutta idea. Dobbiamo trovarlo assolutissimamente. Ora, però... Il problema è... Sono morto. E va bene. Dove cavolo è lo zaino? Perché questi posti qua sono già... Cioè, li ho già visitati, come potete ben vedere. Sono già passati di qua. Lo zaino forse è questo. Sì. Molto bene. Quindi, zaino ritrovato. Con alcune cosucce nostre. Ora, missione nel recuperare questo fottuto Baker. O Baker. Dove andiamo a recuperarlo? Dunque... Io ho provato qui, ma non ho trovato. Secondo me potrebbe essere, se non erro, all'ospedale. E l'ospedale, se non erro, dovrebbe essere in questa zona qua. E siamo vicino alla nostra base adesso. Guardate tutti gli alberi che ho piantato. Questa è una mia riserva. E dovrò tirarli giù, perché fanno laggare tantissimo. E in più, giusto che sono davanti a casa, vi faccio vedere giusto due cosucce. Le ho fatto così. Intanto forse... È meglio che mangio qualcosina. Allora, guardate. Qua ho dato una ripulita un po'. E ho iniziato a piantare il crisantemio, che abbiamo fatto il tè. Anzi, ho fatto il tè. E il golden rod, che è... Il crisantemio è quello rosso. Il golden rod è quello oro, quello giallo. Qua... Eccolo qua il crisantemio. E qua c'è il cotton. Cioè il cotone. Questo perché? Perché ci serviranno per fare il colorante. E come si fa il colorante? Ovviamente con la chemistry station, che dobbiamo fare. Ma come si fa la chemistry station? Ci serve quel cavolo di oggetto lì. Cioè questo, il beaker. O beaker. Ora, ho piantato le piante attorno a casa perché mi sembrava una roba bella. Cioè, lascia stare. La pianta intorno a casa fa sempre bene. Eccola qua. Tra l'altro ho spaccato anche le piante. Potrebbe essere un problema. Oppure me le ha droppate. Credo di averle rotte. Comunque le ho zappato il terreno qua. E altrimenti non potete piantarlo così. Cioè bisogna zapparlo con la zappa. E se no con che cosa lo zappi. E le ho piantate anche qua. Poi, e che cosa ho fatto? Giusto per farvi vedere. Andiamo sopra qua. E sono andato avanti un attimo anche con la costruzione. Allora qua sto facendo delle modifiche perché ho deciso che questa, dove c'era la doccia qui, cioè qua faremo la stanza dei motori o comunque di controllo. E in più ho costruito l'altra torre. Guardate qua. Non è finita. Andrà colorata, andrà sistemata. Come anche quella va ancora sistemata. Però l'altra torre, vedete che è la torre che guarda da questa parte. Diciamo che è la torre ovest. Vedete che guardiamo verso ovest. Quella lì sarà la torre est. Più o meno. E quella lì la torre sud-est che faremo lì. Che avete scritto anche voi nei commenti. Vedete che è tutto molto bello vedere tutto dall'alto. Bisogna stare attenti a non cadere però sistemeremo anche quello. Questo è giusto per farvi vedere cosa sto facendo nella base. Qua ho deciso di mettere i motori con gli interruttori. Nel cesso li metto perché mi piace così. Reputo che sia una cosa molto interessante. Ma ora continuiamo il nostro viaggio. Salto sul ponte. Salto sul ponte. E siamo a Gersville. Questa cittadina che sicuramente forse è meglio dell'altra in cui eravamo. Ma l'ospedale è esattamente quello. Ed è la nostra meta. Mi ricordavo bene. Cioè questo è l'ospedale. Cioè addirittura uno scuola bus fuori. Guardate. Ok. Allora. La nostra... Anzi la roba che stavo prendendo è qua. Guardate il motore di livello 1. Insomma un po' di cose interessanti. Facciamo una cosa. Recuperiamo. Però ci dice no. Perché vedete. se c'è dentro roba non ci fa se c'è dentro roba non ci fa tirare su la moto. La moto la possiamo tirare su solo se è vuota. E tutto sto casino è qua. Tipo si può sferenciare? Vorrebbe di sì o forse anche di no. Però. Però. Allora. Questo è l'ospedale. Questo è il fottuto ospedale. Ora. Ma c'è qualcuno nell'autobus? No. Ora. Distruggiamo la porta e l'obiettivo è trovare appunto il baker. Poi è crollato veramente tutto. Ah anche le nurse cioè le infermiere potrebbero Che cavolo è successo? Un'esplosione. Anche le nurse cioè le infermiere qua potrebbero avere il baker. Potrebbero dropparlo. C'è una possibilità che lo droppino. Come al solito sono sempre fuori dalla stamina. C'è stata un'esplosione non so di cosa. Scusi signorina può morire. Però si deve droppare la cosa. Già adesso gli zombie ci droppano molto meno rispetto al solito. Quindi non mi aspetto che mi droppano nulla in realtà. Allora abbiamo la yucca. Scusiamola. La nostra amica yucca. Ok. Allora. Vediamo un po'. Qua c'è l'acqua. Uh. Water. Water. Allora. Nell'ospedale mi aspetto Nell'ospedale mi aspetto che ci sia qualcosa di interessante spero. E spero anche il baker. Però ho notato che ci sono anche i nostri amici. Sia quelli che strisciano sia quegli altri. La cosa non mi fa assolutissimamente piacere. Usiamo l'arco. Usiamo l'arco per scoccare le frecce non sparare scoccare mi raccomando importante. Ok. Livello 61 e 7 punti skill. Possiamo spendere. Cioè lo zombie lì ci ha seguito praticamente. Wow. Ma è ancora vivo credo. Ho sparato una freccia direttamente contro il cornicione. Va bene così? Così signore non è per sfiducia. Quello sta morendo cioè spero che muoia là. Addirittura EEEE ELETRICITA' guardate ELETRICITA' Dove cavolo l'ha presa l'elettricità il tizio qui però? Ok un bel colpettino. Ora non credo che ci siano cose nascoste qui però guardate qua qua cosa ci può essere? 7000 per distruggere quello e 2005 per questo. Qua qualcuno qua è dentro per rompere quello ci vuole un'eternità 7000 o 70.000 ci vuole un'eternità veramente 7000 ma è veramente un'eternità aspettiamo se c'è altro qua in giro tipo qua da qualche parte insomma bisogna trovare sti Baker i Baker spero che si trovino ancora trovi no ho finito la stamina ho finito la stamina calma 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 finito la stamina problema stamina perché abbiamo quel cavolo di malus che ci dà non pochi problemi intanto sento un casino di zombie e vedete anche che il gioco tende all'agghicchiare il che vuol dire e ci sta avvisando praticamente che sta arrivando il mondo sta arrivando veramente il mondo sentite che casino ci sono degli zombie nuovi quello lo facciamo morire lì che magari prende la scossa anche lui ha preso la scossa lì c'è tipo una trappola o qualcosa del genere questi sono i pazienti zombie nuovi mai visti pare di non averli mai visti questi zombie qui tipo i pazienti sono ah la faccia che casino non l'ho mai preso non lo sto prendendo perché oh là oh attenzione pazienti il letto d'ospedale hanno fatto anche ok 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 questa qua tiriamo ok molto bene c'è questo qua uno degli sconvolti qui può essere qualcuno dietro qua sicuramente eh che cavolo è c'è ma che l'ospedale maledetto un fottuto ospedale maledetto con un fottio un fottio di persone dentro via questi qua via anche te peccati non riesco mai a prenderli e poi finisce sempre la stamina e abbiamo quel malus del cavolo cioè veramente un disastro è arrivato pure lui ale bene molto bene io c'ho paura che qualcuno arrivi da dietro qualcuno mi scrive e Amon non guardi mai dietro no guardo dietro il problema è che non potete sempre guardare dietro gli occhi ce li avevano davanti e ti devo guardare anche davanti cosa succede che posso giocare fare uh 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 sarebbe un gameplay cioè veramente devastante ora abbiamo visto anche come la moto nella scorsa nel scorso episodio non dia bonus cioè non ci dà punti esperienza valedetti punti esperienza e sarebbero utili invece e invece non ce li dà i punti di esperienza la maledetta moto non ci dà nulla sono veramente zombie ovunque cioè è una cosa incredibile guardate zombie veramente ovunque zombie veramente ovunque arrivano ovunque questi zombie poi l'arco è lentissimo cioè è veramente lentissimo a scoccare le frecce cioè veramente lento 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 molto lento molto lento qua se ne va di là e per ora di beaker neanche l'ombra io credo che le pazienti abbiano un problema credo che ci sia un non so se credo un bug perché la distanza che tengo rispetto agli altri zombie è identica però non riesco a colpirla come vorrei stiamo facendo un po' di punti in realtà però è anche vero che sti cavoli cioè questi arrivano ovunque e tra l'altro mi prende sempre il maledetto qui sono riuscito a procurarmi a ropucurarmi a procurarmi un po' di legno spaccando questi col martello perché l'ascia è andata a farsi fottere quindi già con questo potrei andare al piano sopra se tutto va bene facendo così teoria sono al piano so ehm oh che cavolo oh che cavolo oh che cavolo oh che cavolo no 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 stanno cadendo cadendo questo potrebbe essere un problemino allontaniamoli un attimo stanno cadendo i maledetti stanno cadendo non rischiamo non rischiamo senza colpi carica forza amico ok tiramogli delle mazzate a queste qua risparmiando i colpi no e che cavolo sempre qua non riesco vai poi mi allontano anche ma guardate stanno distruggendo tutto il muro eh sì però anche questa mi prende sempre oh sponato non baker però visi eh visione sì ciao occhiali per la visione notturna wow oh saliamo qua vediamo un po' cosa c'è qui qua ci sono le camere mangiamoci la carne qua che fa schifo però che potrebbe essere utile oh baker no lo splint non mi serviva io volevo il fottuto baker il fottuto baker voglio bonus altre cose ma nulla che possiamo riutilizzare tipo il fottuto baker bello bello questa cosa qua però siamo su di un piano delle stanze però non c'è il baker dove cavolo posso trovare il baker il baker io mi ricordo che si potreva protreva si poteva trovare qui vabbè ci sono delle cassette di sicurezza il problema è che ci spiega 25 anni per romperle non mi pare una cosa abbastanza ingegnosa mettersi lì a rompere adesso ste cose infermiere ovunque ma quante infermiere ci sono ma ci sono fottute infermieri ovunque ste infermiere sono ovunque e che cavolo è guardate cos'è sto casino se lo avessi preso una volta ce n'è pure uno super due super guardate ok potrebbe essere un problema potrebbe essere un fottuto problema guardate c'è uno zombie super anche overpower e mi sta raggiungendo superiamola io ho preso una mazzata va bene uguale vedete cosa servono i colpi risparmiati servono le teste situazioni dove qua il casino è devastante ok altri punti 8 punti da spendere bisognerà spenderli da questo fottutissimo ospedale pieno di zombie anche overpower da cui ma cos'è ma consuma stamina anche a sparare il lumino qui e muori oh là portatelo guardate è tutto fosforescente era cadaveri ovunque surgery cosa diavolo stavano facendo degli esperimenti oh cavolo stavano facendo degli esperimenti che sia nata da qua la storia degli zombie potrebbe essere dove cavolo è il baker cioè io voglio il baker io voglio il fottuto baker amico devi capire una cosa io sono venuto fino all'ospedale per prendere uno stramega fottuto baker e tu non mi stai dando il baker e questo non mi piace come cosa ho il primo piano dell'ospedale ma del baker non ci sono notizie pensate che il baker lo avevo anche trovato sta facendo notte lo avevo anche trovato dove in giro perché mi ricordo che il baker sostanzialmente si trova sia e che cavolo di casino il baker lo si trova anche ecco le scale che avevamo fatto scale per modo di dire nel garage però siamo in una città ora l'ospedale attenzione ehi perché c'è una mina sembra inesplosa e prima ci sono passato sopra è una mina inesplosa cioè è una mina pagata ora in realtà ci sarà mai il baker qua da qualche parte in una là c'è un tirasegno anche guardate in una delle che ne so delle case qui dei garage ci sarà un fottuto baker in giro perché è proprio quello che mi serve il baker cioè il baker mi serve no questo me lo mangio il baker mi serve questo magari me lo equipaggio via via questo via questo via questo via questo via questo via questo stonex perché si è rotta l'ascia si è rotta l'ascia ma si può essere così sfortunati ora con la stonex ho visto allora lì davanti c'è un garage sono entrato ma non c'è una stramazza di nulla io mi ricordo nell'alfa 16 di aver letto un vostro commento che diceva si amon guarda che nei garage si possono trovare i baker perché mi ricordo che una delle prime puntate dell'alfa 16 mi serviva forse non so se era la quarta o la quinta e non lo trovavo ora il baker non si può craftare però forse dico forse lo si può trovare magari qui spero è ultra rinforzato sto garage perché è ultra rinforzato un garage proviamo a aprirci un varco per vedere cosa c'è dopo l'ospedale maledetto anche il garage maledetto c'è uno lì uno dei chimici è lì il signor Walter White ci sta aspettando eccolo qua tiriamogli subito dalle mazzate eh ale c'è l'impossibile dentro come sempre forza c'è l'impossibile dentro iniziamo prepariamo le nostre frecce e scocchiamole come sempre forza il prossimo l'impiegato la ciccionazza zombie lo sconvolto forza unitevi tutti alla festa di amor rouge la festa degli zombie e lo sconvolto che non muore mai non muore mai magari nella macchina magari nella macchina no stilamo vabbè ci vanno bene perché dobbiamo recuperarle magari in un'altra macchina cioè no id c'è una mazza non troverò mai sto baker dove cavo questo tocco di ferro così non troverò mai c'è una cassa di working stop tools oh qua una workbench tra l'altro funzionante e siamo arrivati alla notte per andare là sopra faccio qua una scala qua una scala molto bene dei pannelli che non sembrano stabilissimi infatti non lo sono per nulla ok così ci metto 20 anni proviamo così non è che cambia qualcosa però spaccare almeno questo ah però vediamo qua dentro se troviamo qualcosa interessante mi serve il baker magari nel working stiff tools troviamo il baker non ne ho proprio idea andiamo a vedere magari c'è il baker no una batteria di livello tra un tool da i7 e un river frame e comunque ci possono essere utili ok sono caduto e dall'altra parte cosa troviamo e mentre vado dall'altra parte vi inizio a dire amici che per questa puntata è tutto purtroppo e vi ricordo di lasciare un bel mi piace un commento e una condivisione mi raccomando importantissimo se sapete dove trovare il baker ditemelo perché è una cosa urgentissima trovare questo baker potrebbe essere la una delle svolte delle serie della svolta della serie insomma una svolta e detto questo amici ci vediamo al prossimo fottutissimo video diamo a luce tutto ciao e al prossimo fottuto video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti